Il Nido Famiglia Il Nido Famiglia offre servizio mensa interno e uno spazio esterno per le attività all'aperto, sicuro e indipendente. Il programma educativo, curato mensilmente, aiuterà i piccoli ospiti nello sviluppo logico, cognitivo e motorio. Allora, porta il tuo piccolo al Nido Famiglia, il paese dei balocchi. Erika e Simonetta ti aspettano in via Eugenio Dupré, numero 13, sopra il bar delle Orchidee. Per informazioni 333 2303 608 oppure 339 75 41 776.